Condivisione degli spazi pubblici, è questo il tema portante della settimana europea della mobilità sostenibile 2024. Dal 16 al 22 settembre uno dei punti cardine sarà costituito dalle strade scolastiche, un progetto che mira alla messa in sicurezza degli istituti, un obiettivo alla quale l'amministrazione capitolina attraverso il lavoro di Roma Servizi per la mobilità dedica particolare attenzione, grande rilievo, la mobilità sostenibile. Gli appuntamenti sul sito romamobilità.it